Per anni. Tantissimi anni. Hanno fatto coppia fissa. Nella vita come nella carriera artistica. Ma ora i fan possono nuovamente esultare. Per anni. Tantissimi anni. Hanno fatto coppia fissa. Nella vita come nella carriera artistica. Ma tutto finisce. Anche le cose belle. Ma altre possono ricominciare. E allora? Ecco la notizia che i fan aspettavano. Albano e Romina di nuovo insieme. Scopriamo la grande Albano e Romina. Un successo straordinario per entrambi. Albano nel corso della sua carriera ha vinto 26 dischi d'oro e 8 dischi di platino. Ovviamente. Gran parte della sua vita professionale e sentimentale è legata al rapporto con Romina Power. I due. Affiatatissimi. Hanno fatto coppia fissa sia nella vita che sul palco. Con grandi successi come. Felicità. I due hanno avuto tre figli. La primogenita Ilenia scomparve il primo gennaio 1994 in circostanze misteriose mentre si trovava New Orleans. Non se ne saprà più nulla. Nonostante ciclicamente nascano voci su presunti avvistamenti. Nel febbraio 1999. Dopo tre anni dal ritorno alla carriera da solista. Albano si separa legalmente. Dopo 29 anni di matrimonio. Dalla moglie e compagna artistica tra la fine degli anni 90 e l'inizio dei 2000 conosce Loredana Lecciso. Con la quale va a convivere nel 2001. E dalla quale ha altri due figli. Il ritorno insieme. Ora. Però. I fan della coppia possono esultare. Perché Albano e Romina torneranno insieme. E. Lo stesso cantautore di Cellino San Marco ad annunciare. Tramite il proprio profilo Instagram ufficiale quello che viene definito. Albano and Romina Power Live Tour 2022. Albano posta le locandine. Scrivendo. Stardust shows is back. In effetti Albano e Romina sono la coppia più amata d'Italia. Nel tour del 2022 si esibiranno anche Uccio De Santis e. Da Sanremo Junior. Romina Perry. Queste le date. La partecipazione di Romina Power sarà in esclusiva per Hard Rock Casino in Atlantic City e Foxwoods Casino Connecticat. Beh. È comunque una grande notizia. la partecipazione di Germania è era una grande notizia. Grazie a tutti.